Novità Stonfo 2018, oggi parliamo del coccodrillo, un utensile usato per la realizzazione di dubbing compositi. Il simpatico nome deriva dalla forma della pinza che come vedete ricorda la bocca di un coccodrillo. Il volantino è basculante su un angolo di 180 gradi con possibilità di blocco a 90 gradi per evitare che il cordoncino di dubbing si scomponga. Vediamo come funziona. Cominciamo col bloccare in questo caso un cordoncino di microciniglia nera e un ecco di gallo rosso. Inseriamo nella bocca del coccodrillo sia il cordoncino di microciniglia che la nostra ecco. Dopo aver inserito entrambi i materiali procediamo all'avvolgimento usando il twister. Scriviamo ora il nostro avvolgimento. A questo punto blocchiamo il nostro coccodrillo nella posizione di 90 gradi. A questo punto siamo pronti per chiudere la mostra e quindi incrociamo il filo di montaggio con il cordoncino che abbiamo creato.